Frank, sei pronto? Quando vuoi. Bro, attento a dove metti le mani. DJ Mesh, sei pronto? Ok, countdown. Tre! E... Due! Uno! Vai! Yo, rimè, sempre perfette. Se rappo sulla base, sono il meglio, lo vedete. Sono come l'infer, metto la palla in fondo alla rete. Qui c'è l'inferd e me, se li uccido con il macete. Yes! Yo, senti come va, se rimo. Facendo questo flow, lo sai che io lo imprimo. Sono perfetto come l'uomo di Leonardo da Vinci e te lo riporto sopra ad un manichino. Senti come va, la cultura qua è perfetta, sicuro. Lo sai che cosa ne deduco? Che questa volta la mia memoria avrà fatto un buco. Non tutte le cerbelle marge nascono col bruco. Sottolineato, perché arrivo con il tre, la roba unica. Io vengo con l'e-rap migliore nella Repubblica. Ho sempre messo anima e cuore per questa musica. Continuo pure libero, con queste rimetide libero. Sai che io arrivo sempre alla fine, mentre fumo cime come nelle piscine. Nuoto a stile libero. Ritorno sulla rima. Questo qua lo faccio fuori già da prima. Vengo con la rima per portare rap. Sei rap e adrenalina, stai fottendo contro Crank. Dai booo! Oh, sia, 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 sia. E che dire? Tu sei pronto, vero? Ti vedo. Lui è sempre pronto. IJMS, sei pronto, vero? Eh, eh! 3, 2, 1, vai! E' una roba incompresa. Riconosci che sei rap o m'ammazzo. E' talmente tanto ritardato che sua madre lo porta a far la spesa sopra di questo aspasso. Come funziona? Lo sai che sei cretino. Lo è Miss Italia. Io il suo vecchino lo sto scopando alla missionaria. Lascia perdere. Com'è che funziona? Spasso. E' talmente tanto autistico che se gliela do in mano. Se la mette dentro al naso. Vai a casa, a caso. Com'è che funziona? Ci muori. Raven qua ti spacca, come funziona? Ti arreda esattamente come questa chirlanda di fiori. Ti porto alle Hawaii. Ti porto parabole. Ogni volta vedi che le sleco queste scapole. Va bene che siamo ai magazzini. Ma non mi rompere le scatole. Lascia perdere. Lo sai che sei un coglione. Bravo il folderback. Lui leone, il cane, il fifone. Fai mai! Ragazzi, DJ Mesh ci sei. Ok. Di chi è questo? 3, 2, 1, vai! Ok, mi prende lo sclero, frate. In finale ci vado io per davvero. Lui è un eterno secondo come parrichiello. Ma con qualche R in meno. Ma tu fai ridere. E io lo voglio deridere. Rispetto al primo turno hai fatto ridere. Hai visto quando non sei a casa senza la penna per scrivere? Ridere, ho fatto ridere. Ho fatto ridere. La, 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 la. Young signorino ti ha sentito raffare. Fanconavo, fanconavo. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Io vengo a fare rap. E lo capisci che sia un tesimo. Io faccio ah, 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 ah. Questo qui sembra la rana incappucciata di Crazy Frog. E sei un ritardato. Non te la cavi. Siamo tutti quanti bravi. Mi dispiace ma non arrivi in finale. Ti credevi il mostro finale. Ma sei il coglione degli ottavi. Il coglione degli ottavi, no. Io sono comico. E adesso ti spiego perché ti batto al microfono. Non ti sei mai tolto il cappuccio solamente per nascondere la seconda faccia di Voldemort. L'abbiamo detta nel gruppo questa. Ritardato. L'ho capito. Ho il cappuccio come Eminem Nightmile. Ma io sbocco dopo averlo sentito. Averlo sentito. Perché arrivo con il flow e questo suca. Io bevo la sambuca. Lui Nightmile con la tipa è come papadoc. Scena muta. Bella rima di merda. Riconosci che lo faccio tipo che non ha caterva. Ti batto sotto voce. Tu sei un povero Cristo. Perdi perché croce certa. Croce certa. Perfetto. Io invece rappo e ti lascio perplesso. Dici che mi batti sotto voce. Però c'hai la voce sotto il livello richiesto. E io l'ho messo sotto. Com'è che funziona te lo spiego per questo. Lo devasto l'ho messo sotto. Ogni volta lo lascio sotto. Shock è sottomesso. Sottomesso. Io invece lo metto incinta perfino sottomestruo. Non sono in sesto. Portami la spada e il martello che sono in vesto. Fai besta. Mike Chase, Mike Chase, Mike Chase. Finisce così. Grazie. 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 Grazie.